Mister, domenica scorsa sconfitta in trasferta sul campo della Fragrea, come è andata la partita? È stata una partita dai due volti, perché abbiamo fatto un primo tempo non buono, anche se dopo 20 minuti ci è stato annullato un gol regolarissimo con Trofa e poi dopo su due ingenuità commesse abbiamo preso i due gol, al secondo tempo abbiamo fatto molto meglio, abbiamo riaperto la partita con il gol di Fiorentino, poi abbiamo avuto diverse occasioni per poterla pareggiare, purtroppo è anche un momento poco fortunato per cui la partita si è chiusa con la vittoria della Fragrea. Mister, per fortuna ma anche per sfortuna, visto alcuni infortuni, i De Luise e Luca di Spignano hanno fatto gran parte della partita, come è stata la loro prova, visto che era la prima partita con la maglia del Forio? La loro prova, considerando che Luca e Vittorio si erano aggiunti alla squadra martedì, mentre Massimo è arrivato soltanto venerdì, quindi aveva avuto soltanto il tempo di fare un allenamento, credo che non gli si poteva chiedere di più, sono ragazzi che possono essere utili alla causa e dobbiamo cercarli di metterli in condizioni in quanto meno tempo è possibile. Domenica si fa sul campo del Dragone, partita non semplice? No, partita complicata, con una squadra assetata di punti su un campo difficile, per cui domenica dovremmo fare una prestazione gagliarda per portare i punti a casa. Indisponibili? Indisponibili, mancherà Capuano che era diffidato e quindi a Monito sarà scolificato, dobbiamo valutare le condizioni di San Nino che domenica è uscito dopo 30-35 minuti, Barrella è infortunato, Castagli ha riportato una microfrattura al polso e soltanto oggi si riunirà al gruppo. Insomma, abbiamo come al solito non pochi problemi per trovare l'undici titolare. Ci sono novità sul mercato? No, al momento no, perché purtroppo quello che stiamo cercando in questo momento facciamo difficoltà a trovarlo. Grazie.